E' una manovra di assestamento che in qualche modo ci riporta di nuovo agli anni passati. Siamo costretti a rincorrere una serie di voci che rispetto al previsionale poi non si avverano. Parliamo della dismissione del patrimonio, parliamo delle partite e degli incassi che non riusciamo in qualche modo a portare dentro. Una serie di questioni che sicuramente affliggono l'ente, impediscono di fare programmazione sicuramente. La dimostrazione sono le tante delibere che hanno anticipato questa manovra di assestamento che sono tutte variazioni di bilancio. L'ente cioè che fa, approva un bilancio che per l'80% è ingessato perché è costituito dagli stipendi e dalle altre partite che deve in qualche modo prevedere a monte e solo per il 20% può garantire una serie di servizi. Questo determina un bilancio che è frutto di emergenze e non di precise scelte. Quello che accadrà sicuramente sarà anche condizionato da questa legge di cui si parla a livello nazionale che potrebbe consentire all'ente probabilmente un maggiore respiro sul fronte della programmazione.